Arriva grazie a un super minucci ed un'apprezzazione corale sopra le righe la prima vittoria a torta e testa di Alessandro Di Nunno. I premestini al Roberto Iolasi hanno fatto subito dimenticare il passo falso di sette giorni fa contro il Villanova e si sono imposti sul Football Club grazie a un doppietto del talentuoso numero 9 ma anche a giocate d'alta squadra di Schiavon e del portiere Ferronetti. I locali partono subito a sprombattuto e al quarto Bertoldi viene abbattuto in area piccola ma l'arbitro non concede il penalty ed anzi ammunisce il giocatore per simulazione. Il Football Club sembra soffrire l'avvio spinte locali e prova a pungere solo al tredicesimo con il fendente di Formilli mentre la torta e testa avvicina il gol con il tracciante di Bertoldi che coglie in piena la traversa. Il numero 7 locale sembra però essere in giornata di Grazia e al trentesimo macina terreno sulla corsia destra e mette al centro un pallone che Minucci deve solo ribattere in rete. Subito lo svantaggio il Football Club prova a reagire ma la conclusione di Formilli impatta sul palo interno per poi uscire. Il team di Magro avrebbe l'occasione di pareggiare al quarto del secondo tempo il calcio di rigore ma Ferronetti si oppone da campione la conclusione di Formilli sventando l'uno ad uno. Al sedicesimo la torta e testa chiude così i giochi. Minucci fa tutto da solo e dopo aver tentato il gol con un pallonetto d'alta scuola insaccherete il pallone che danzava sulla linea e firma la sua personale doppietta che chiude i giochi.